Li metteremo alla prova. Cinque cloni potenziati. Più capaci di un esercito. Però manifestano un preoccupante livello di disobbedienza e di inosservanza degli ordini. Beh, tutto qui! Datacene ancora! La nostra squadra non porta altro che guai. Ma completiamo il lavoro. Siete la Clone Force 99? Tu sai chi siamo? Hunter. Andiamo. Ecco. Iperguida attiva! Tech. Pronti a saltare? Wrecker? Esplosioni a volontà! Sì! E crosser? A te la mossa. Ah! Tutto quello che serve! Trovate la Clone Force 99 e spazzatela via. La Galassia è un posto pericoloso. Dobbiamo uscire di qui. Che ne dici, ragazzina? Vuoi venire con noi? Come posso aiutarvi? La guerra dei Cloni è finita. Potete adeguarvi e sopravvivere. O morire insieme al passato. A voi la scelta. Facciamo quello che sappiamo. Si parte, ragazzina. Si parte, ragazzina.